Questo è un momento fondamentale che ogni anno viene presentato la sera qui all'Università di Ferrara, Palastro Tassoni e la mattina dopo si ripropone in un convegno al Salone dei Beni Culturali e lì ognuno di loro spiega il progetto per il quale è stato premiato e questo è un momento importantissimo per quanto riguarda il mondo del progetto e dell'esecuzione di questi progetti. Da non dimenticare che nel Salone vi è anche la mostra di tutti i progetti di questi autori.